Non tutti sanno che a 20 minuti da Bassano del Grappa c'è il Museo della Grappa, realizzato su iniziativa della storica distilleria Poli, nata nel 1898 e oggi guidata da Jacopo Poli con i fratelli Giampaolo, Barbara e Andrea, ripercorre la storia del distillato di bandiera italiano attraverso alcune chicche, dall'alambicco mobile utilizzato dal fondatore Giobatta Poli alla raccolta delle bottiglie dell'azienda dal 1930 a oggi, affiancate da una collezione di 2000 grappe artigianali da tutta Italia. La visita culmina fra le caldaiette in rame della distilleria, dove si effettua la cotta delle vinacce, fino alla degustazione finale per scoprire le infinite varietà di profumi e aromi che si possono ottenere attraverso l'aromatizzazione e l'invecchiamento della grappa. Se poi si vuole approfondire, nel centro di Bassano c'è la sede originaria del museo, inaugurata quasi 30 anni fa e dal taglio più didattico.